Musica Condizioni di alta pressione su gran parte dell'Europa continentale e sul Mediterraneo. Nessuna variazione significativa attesa nei prossimi giorni. Domenica 25 settembre in Toscana sereno o poco nuvoloso. Venti deboli dal nord-est, mari poco mossi, temperature massime e stazionarie su valori molto gradevoli. Sereno su tutta la provincia. A Lucca temperatura minima 10, massima 26 gradi. A Viareggio minima 15, massima 22 gradi. A Castelnuovo minima 8, massima 23 gradi.